Grazie a tutti. A salutare il club anche il vice allenatore Fabrizio Zambardi, collaboratori tecnici Andrea Milani, Alessandro Monticciolo e il preparatore atletico Antonio Del Fosco. Il club bianconero si legge nella nota e rivolge un sentito ringraziamento a mister Vivarini e al suo staff per il lavoro svolto nel corso della stagione sportiva. Perché accade questo? Perché Lascoli ha già trovato il suo sostituto ed è il 37enne Paolo Zanetti che nella giornata di ieri ha trovato l'accordo per risolvere il contratto che lo legava al Sottirol, formazione che ha militato nel girone B del campionato di Serie C. Zanetti ha firmato un accordo biennale con Lascoli e di conseguenza è lui il sostituto di Vincenzo Vivarini. In questo caso si attende solo la comunicazione ufficiale sul sito del club, sul sito dell'Ascoli, ma Zanetti sarà l'allenatore del picchio nelle prossime due annate. Il Fuzz allora con il sogno Scudetto che si avvicina per l'Ital Service Pesaro. Ieri in gara 3 della finale la vittoria ai supplementari per 5-3 contro l'Acqua e Sapone, domenica di nuovo in casa per provare a cucirsi il tricolore addosso. Tripudio Ital Service. Dopo due estenuanti tempi supplementari la formazione di Fulvio Colini supera l'Acqua e Sapone 5-3 e si porta 2-1 nella serie delle finali Scudetto che assegnerà il tricolore a chi vincerà almeno tre partite. Il sogno tricolore continua e adesso, domenica prossima, i biancorossi hanno il match point per trasformarlo in realtà. Di nuovo a Pesaro, una città che insieme a tutto il resto della regione ha risposto in maniera pazzesca all'appuntamento di ieri sera. Tutto esaurito al Palanino Pizza, con oltre 2.000 spettatori che si sono esaltati dal primo all'ultimo istante per il club del presidente Lorenzo Pizza. È stato lui il primo a balzare in campo al triplice fischio di una giornata memorabile. Tre volte in vantaggio, tre volte ripresa. Questa è la storia del match in cui Rita al Service ha spinto sempre sull'acceleratore, costringendo la corazzata bruzzese sulla difensiva. Primi 5 minuti con un paio di occasioni per parte. Poi, a ridosso del sesto, ecco il vantaggio firmato Marcelinho, con una punizione velenosa che ha gonfiato la rete. Replica ospite con un gol meraviglioso di Luca Iann. Tutto il palazzo in piedi per rimarcare il suo tiro al volo vincente da posizione impossibile. Ne è anche il tempo di rammaricarsi, che Borrutto infiamma di nuovo l'ambiente con la rete del 2-1. Seguiranno 12 minuti senza gol. Poi, a meno di un minuto dall'intervallo, ecco il fallo ingenuo di Caputo e il tiro libero realizzato dallo specialista Cuzzolino. Dopo il 2-2 del primo tempo, nella ripresa riecco Marcelinho gol, altra punizione vincente e nuovo vantaggio bianco-rosso. Come nella prima frazione, però, gli ultimi minuti sono fatali perché l'acqua e sapone, col portiere avanzato, trova il 3-3 e manda la sfida ai supplementari. Qua Pesaro, stremato, sfinito, senza più ossigeno, dipinge il capolavoro. Lo fa prima con Canal, che sigla il 4-3. Poi, a pochi secondi dal gong, ecco il punto esclamativo di Borrutto, che segna il 5-3 e regala la terza gara al Pesaro, che comanda la serie ora sul 2-1. Così, domenica pomeriggio, di nuovo a Pesaro, possibile, tra l'altro, il trasferimento alla Vitri Frigo Arena, l'Ital Service potrà giocarsi il match point per lo scudetto in casa. Come andrà a finire? Lo dirà il campo, ma una cosa è già certa, per i campioni d'Italia Bruzzesi sarà l'ultima chance, dall'altra parte, invece, sarà una meravigliosa bolgia a tinte bianco-rosse. Notizie di volo e mercato, cominciamo dalla Lube. Lube che piazza un altro colpo, il terzo, in pochi giorni, arriva all'opposto iraniano Amir Ghaffur, che vestirà dunque la maglia dei campioni d'Italia ed Europa in carica, classe 91, 28 anni proprio giovedì prossimo, arriva in bianco-rosso dopo la prima annata in Italia con il vero Volley Monza. Grande esperienza per Ghaffur a livello internazionale, grazie alle gare disputate con la maglia della nazionale iraniana, tra cui le Olimpiadi di Rio 2016, il Mondiale 2018 e la recentissima vittoria sull'Italia, 3-1 nel primo weekend della Volley National League in Cina. Ghaffur ha seglato un accordo annuale con il club cuciniero e l'arrivo di Ghaffur completa il reparto opposti della Lube, che già poteva contare sull'ingaggio del giovane talento lussemburghese Richlicchi. Colpo di mercato anche per la Lardini Filottrano, che ha sistemato il ruolo di libero con Veronica Bisconti, giocatrice riminese classe 91, alle spalle una carriera di spessore con 201 partite in competizione di Serie A italiane, per la prima volta affronterà il campionato di A1 con i grandi da titolare nel ruolo. Per me è un'opportunità grandissima, ha detto che aspettavo da qualche anno consapevole di prendere l'eredità di una grandissima come Paolo Accardullo. Sono contenta ed anche un po' emozionata. So di avere la possibilità di esprimermi al massimo livello, ma questa è un'ansia positiva. E dunque la Bisconti nel ruolo di libero per una Lardini Filottrano, che giorno dopo giorno prende sempre più corpo per il suo terzo anno in Serie A1. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto tutte le news le potete trovare pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarke.it. E' tutto invece per questa edizione, grazie dell'attenzione, buona serata, arrivederci. Grazie a tutti.